Circa 200 cittadini della Borgola Martella di Matera hanno protestato sotto la sede della comune la loro contrarietà alla ipotesi che venga collocata nel luogo che per anni ha ospitato la discarica un impianto di biometano. Nella gennaio 2022 fanno sapere i cittadini il comune aveva detto no all'impianto in quel sito. Ora sembrerebbe che le decisioni stiano andando in un'altra direzione vista la disponibilità, dicono, data dalla comune alla regione basilicata ad essere una stazione di trasferenza. Fondamentalmente tre le perplessità dei cittadini rappresentate dalla comitato Cuaroni, dall'associazione Amici del Borgo e dall'associazione Schierarsi. Le prime due, scarso coinvolgimento della comunità nel percorso fin qui intrapreso dall'amministrazione e l'inopportunità dell'impianto rispetto ai volumi di rifiuti specifici previsti. 60.000 tonnellate è la previsione al 2030, sono già state ripartite tra i due impianti di potenza e l'impianto di Colobraro nella provincia di Matera. Matera non è assolutamente baricentica rispetto anche a un approvvigionamento regionale. Poi sugli aspetti ambientali? Noi non abbiamo assolutamente degli studi che ci confortano da una gestione dei rifiuti prospicente alle nostre aree non solo socioassistenziali e anche di vita quotidiana ma anche culturali. Saremo anche confortati dalla consulenza di alcuni esperti del ramo. Noi non siamo qua solo per manifestare il no ma trovare insieme con l'amministrazione comunale delle soluzioni per il bene sia del borgo ma anche dell'amministrazione comunale. Tra le soluzioni alternative proposte ricordiamo l'impianto fotovoltaico. Intanto dalla sesto piano fanno sapere che già a dicembre 2021 una piccola delegazione dei cittadini è stata ascoltata che il 29 gennaio ci sarà un consiglio comunale aperto sulla questione nell'ambito del quale saranno ascoltate ancora e che altri incontri ci saranno sugli aspetti ambientali. Nel caso di andasse verso quella soluzione rassicurano tutti gli standard di sicurezza saranno ottemperati. Al momento in ogni caso le strade sono ancora tutte aperte. L'amministrazione comunale non ha preso una decisione in materia. Le paure dei cittadini della Martella sono legittime, sono paure che vengono dal passato. Un passato che non è replicabile per qualcosa che non è possibile più ripetere nel futuro. Una cosa è certa che la chiusura di quell'impianto porta naturalmente un esborso economico a carico di tutta la comunità materana molto importante che dobbiamo evitare. Parliamo di costi tra i 5 e i 7 milioni di euro.